Presidio dell'Unione Sindacale di Base questa mattina a Pescara di fronte agli uffici dei centri per l'impiego. Lei è un ex lavoratore del centro per l'impiego. Voi chiedete che i precari che hanno lavorato per diversi anni nei centri per l'impiego vengano stabilizzati, vengano riassorbiti e poi che venga potenziato anche il servizio dei centri per l'impiego. Sì, assolutamente, perché adesso si è aperta la fase 2 del reddito di cittadinanza, quindi gli uffici dei centri per l'impiego, oltre alla normale amministrazione, dovranno gestire anche questa partita. Certo ci sono i navigator, però il personale attualmente in forza nei centri per l'impiego è per lo più in prepensionamento. Quindi torniamo a ribadire la necessità di riaprire un confronto, perché questo era stato fatto dall'assessore e dal consigliere che ci avevano ricevuti un paio di mesi fa, insomma prima dell'estate, però poi si sono interrotte le comunicazioni, non c'è stata data più risposta. All'inizio c'era una certa apertura, eravamo stati anche ricevuti in un precedente presidio dai funzionari che avevano preso anche loro l'impegno di riconvocarci, ma purtroppo anche in questo caso si sono interrotte le comunicazioni. Ripeto, è un peccato lasciar perdere questa esperienza che abbiamo maturato negli anni, consideriamo che tra le tre province stiamo parlando di meno di 100 unità di ex dipendenti dei centri per l'impiego e quindi a nostro avviso bisognerebbe fare in fretta perché indipendentemente dal reddito di cittadinanza i centri per l'impiego non possono tornare ad essere un elemento centrale sulle politiche del lavoro. Notizia di questi giorni, di queste ore, che la prossima settimana inizieranno i primi colloqui per quanto riguarda il reddito di cittadinanza? Queste sono le notizie che abbiamo, c'è anche la possibilità che si sia davvero pronto il bando per far rientrare dei lavoratori nei centri per l'impiego con le varie mansioni. Ci eravamo fermati a questo punto con l'assessore e volevamo capire se era possibile integrare nel bando una quota di esperienza, una quota di riserva, però poi purtroppo si sono interrotte le comunicazioni.